Amici di Spazio Etec, eccoci qui con un breve video per una piccola guida su come installare su Apple N1 la ROM Cyanogen. Allora, come prima cosa dovete scaricare il file che contiene la ROM, vedremo magari se riusciamo con Matteo a mettervi un link per scaricare la ROM, dopodiché la dovete copiare semplicemente nella memoria del telefono e a quel punto scollegate il telefono, lo spegnete e lo riavviate in recovery, molto semplice farlo, tasto power contemporaneamente al tasto volume giù. Il telefono si riavvia in recovery, dopo lo screen di Oppo, vedete abbiamo la scelta del linguaggio, naturalmente io non so, di cuore mi sento di consigliarvi di scegliere l'inglese, tra l'altro possiamo interagire non solo con i tasti laterali ma anche con il touch, quindi è molto semplice. Come prima cosa andiamo a fare un wipe data in cache, se avete dei dati vi consiglio ovviamente di fare un backup, altrimenti li perderete, qua ci avvisa appunto di questo, parte l'operazione, ok, wipe data in cache è stato eseguito e a questo punto allora possiamo andare a installare from SD, vedete? Ecco qua il firmware, la ROM e il andiamo a dargli l'ok per procedere, davvero semplicissimo, tutto ciò è supportato nativamente, quindi sarà molto apprezzato dalla comunità degli smanettoni, tutto ciò tra l'altro la ROM siano già tra le più apprezzate, le più stabili, assolutamente notevole, questa possibilità, taglierò sicuramente qualche pezzo, Matteo taglia, qua taglia assolutamente, no dai ci arriverai anche da solo che potrebbero ponderare il suicidio in questo asso di attesa, ok, installazione avvenuta con successo, andiamo a riavviare il terminale e in questo caso il terminale è già bello che è pronto con la nuova ROM installata, ROM di cui faremo una recensione per farvi vedere anche questa potenzialità di Oppo N1. Amici di Spazio Tech, speriamo che questa piccola guida vi sia stata utile, vi sarà utile qualora doveste decidere di procedere e vi aspetto per il prossimo video, ciao!